Matrix 5 si farà, ma cosa sarà questo nuovo film? Un reboot? Un sequel? Un prequel? Andiamo ad osservare da vicino cosa sta succedendo al cinema, perché tutti questi sequel, prequel, remake di tanti film cult sono stati annunciati negli ultimi tempi. Soprattutto, appunto, andremo ad approfondire e cercare di capire cosa cercherà di raccontare questo nuovo film su Matrix. Ma, prima di tutto, sigla! Al CinemaCon di Las Vegas nei giorni scorsi sono stati annunciati diversi film che attingono a saghe cult, film comunque che sono diventati iconici per i fan e per comunque quello che hanno apportato al cinema. Prima di tutto, dobbiamo cercare di capire qual è il momento attuale che sta passando il cinema, perché sono stati annunciati tanti sequel, reboot e remake, di classici anni 80 e 90, anche più recenti. partendo, appunto, dal quinto film su Matrix, che è stato annunciato come Matrix, un film su Matrix, ma non è stato specificato se sarà un sequel di quanto abbiamo visto nel quarto film dedicato alla saga con protagonista Keanu Reeves o sarà un prequel completamente differente da quello che abbiamo visto. Le sorelle Wachikowski si sono distaccate dalla saga perché hanno già raccontato tutto quello che dovevano raccontare e è rimasta appunto Lana Wachikowski come produttrice. Non si sarà, non si sa ancora cosa racconterà questo film, ma io spero almeno che sia un prequel, soprattutto perché sono curioso di sapere cosa c'è prima, visto che è stata parecchie volte nominata la prima Matrix, quindi potrebbe essere un'idea raccontare quello. Il quarto film è stato un flop, quindi perché riprendere nuovamente una saga che ha dato tutto e evidentemente ha stancato il pubblico, in quanto neanche al botteghino ha riscontrato il successo desiderato. Questo poi è un argomento che possiamo ampliare agganciandoci ai film annunciati al cinema con Transformers 1, dovrebbe essere un film animato dedicato alla saga dei Transformers e sono diversi i film annunciati recentemente come anche il remake di The Blair Witch Project o quello dei Goonies o ancora La Storia Infinita per avvicinare, questi sono film che non sono ancora entrati in preproduzione ma sono stati annunciati, soprattutto c'è stata una grandissima polemica dopo il trailer del Corvo, il cult con Brandon Lee che adesso tornerà sugli schermi con il volto di Miss Gasgard e qui capiamo quanto sia necessario avere nuovi film e nuovi argomenti da raccontare perché andare a prendere cult e comunque film di successo che hanno trovato il loro momento di gloria al cinema nel tempo in cui uscirono ma che adesso non è detto che possano riscontrare lo stesso successo. Per questo secondo me è importante inventare nuove storie e nuovi film da poter raccontare e portare sullo schermo. Questa è una tendenza che si sta allargando e purtroppo su dieci film annunciati otto sono dei remake, dei reboot, dei sequel o dei prequel. È interessante capire cosa possa raccontare un film in prequel, quello che è successo magari prima di, ecco appunto, in Matrix. Prendiamo sempre il quinto film su Matrix. Sarebbe interessante capire cosa è accaduto prima della storia che conosciamo con protagonista chiamato Reeves con la prima Matrix, ma un remake completo del film che abbiamo amato e che dovremmo ritornare a guardare sinceramente non lo vorrei. Ha più senso la serie reboot su Harry Potter in quanto molte cose nei film non sono state ampliate e raccontate come nei libri e quindi sono molto curioso per quella serie, a differenza dei classici con i quali Siamo Cresciuti, La Storia Infinita e molti altri film che sono stati annunciati. The Blair Witch Project è uno dei quei film che deve rimanere dov'è anche per l'apporto che ha avuto perché era un film che ha cambiato e ha lanciato un modo di fare horror che è quello del documentary che adesso hanno riprovato a lanciare ma non riscontra sempre lo stesso successo perché era quella particolarità che ha tirato il pubblico in sala al momento dell'uscita. Adesso non so quanto appeal possa trovare. Altro film reboot annunciato al Cinemagon è quello di Scary Movie. Anche qui non trovo il senso, ragazzi, Scary Movie è comunque una saga che prende in giro, prende ispirazione dai film horror. Fare un reboot di Scary Movie non ha senso perché gli Scary Movie attingono a quei film usciti durante l'anno che comunque vengono poi ripresi nei film. Quindi continuare con Scary Movie 6, 7, 8 eccetera andava bene. Perché fare un reboot completo? Tanto alla fine il senso di Scary Movie è quello di parodizzare quei film horror che sono usciti durante l'anno. Quindi fai uno Scary Movie 6, non fare uno Scary Movie reboot completo. Quindi torniamo al fatto che non ha senso lanciare la notizia che in autunno entrerà in pre-produzione un nuovo Scary Movie che sarà un reboot. Stesso discorso per Pirati dei Caraibi. Anche qui la saga di Pirati dei Caraibi ha dato tutto ciò che poteva dare. Senza Johnny Depp in molti non andranno a vedere il film annunciato che molto probabilmente non vedrà protagonista Jack Sparrow. E qui avremo un altro problema. In quanto gli ultimi film della saga dei Pirati dei Caraibi non sono stati questo grande successo. E quindi perché fare un reboot di Pirati dei Caraibi? Per lanciarlo al femminile dalle voci? Sembra che l'attrice di The Bird, Ayo Edebiri, potrebbe essere la protagonista e impersonare un Jack Sparrow al femminile. Già dai commenti, sulle notizie, sul post che trovate poi in pagina, la grande accoglienza, questa grande accoglienza non c'è stata ed anzi molti hanno completamente insultato l'idea di un reboot con una Johnny Depp al femminile. Anche qui non ci sono idee nuove soltanto quella di farlo al femminile. Non ha senso. Non ha assolutamente senso. Anche capisco di più un Jurassic World, un nuovo lancio della saga perché ogni film dedicato ai dinosauri estinti ha superato il miliardo e capisco benissimo perché si voglia fare un nuovo film. Ma quando una saga floppa malamente al botteghino e non riesce neanche a raggiungere il budget stanziato per la produzione e la distribuzione del film, un problema c'è. Quindi non capisco perché farlo nuovamente. Parlo comunque sempre di Matrix. Con Resurrection non siamo andati comunque in pari con gli incassi. Possiamo andare avanti con un nuovo reboot annunciato che è quello di Highlander dove vedremo protagonista Henry Cavill. Henry Cavill che si è detto super contento di impersonare Highlander ma a distanza di anni si sentiva veramente un bisogno impellente di fare un Highlander con Henry Cavill. Io direi di no. Comunque vediamo cosa accadrà ma torniamo sempre al solito discorso. Uno Spider-Man 4 di Sam Raimi. Ragazzi ma veramente volete vedere quel povero Dobby Maguire a 50 anni saltare di grattacielo in grattacielo? Sam Raimi lasciatelo fare gli horror. Si parlava di un nuovo film da lui diretto a tema horror appunto. facciamoglielo fare. Preferisco che faccia un film horror che è più nelle sue corde che torni a fare uno Spider-Man 4 con protagonista Dobby Maguire che ha problemi di schiena, ha un passato di tossicodipendenza senza contare che si dovrà comunque adattare una storia dove c'è uno Spider-Man adulto, più che adulto. Quindi lo vogliamo veramente questo sequel di Spider-Man. Pensiamo magari a uno Spider-Man con Tom Holland, pensiamo a un altro film diretto da Sam Raimi, magari un film horror che è il mago dell'horror Sam Raimi. Quindi non lo so, questi remake, questi reboot non sempre portano anche i risultati sperati al botteghino. Quindi è una mancanza di idee o voglia facile di fare soldi. La stessa Disney nei prossimi anni ha annunciato tutti i sequel di franchise di successo. Inside Out 2, Toy Story 5, Frozen 3, Frozen 4, Oceania 2 e possiamo continuare così fino a domani. Il problema è che non ci sono noi idee e quando vengono lanciate non sempre piacciono al pubblico. Abbiamo come esempio Wish, un Wish che doveva essere il film del centenario di Walt Disney che ha flopato malissimo al botteghino in quanto non è stato apprezzato dal pubblico. A me è piaciuto perché ho amato i riferimenti ma purtroppo devo anche ammettere che ci sono tantissimi se non troppi riferimenti ai film cult Disney e poco spazio alla vera trama principale. Stesso discorso che si può fare di Ghostbusters, minaccia glaciale in quanto il film si concentra troppo sugli easter egg e sui vecchi a chiappa fantasmi e per il momento sta andando malissimo al botteghino. Quindi il problema principale è che non ci sono idee e quando ci sono non vengono apprezzate o vengono mal realizzate. Quindi la domanda principale è questa. Un Civil War verrà apprezzato dal pubblico essendo una nuova idea anche se è rivisitata comunque una guerra civile americana. Un Antimos come abbiamo visto Purtings e Kind of Kindness all'inizio non è stato apprezzato Purtings poi con l'esplosione di Emma Stone e la vittoria degli Oscar è stato anche poi ripassato nei cine storie nuove. vengono apprezzate al cinema. Spero che con questo Kind of Kindness e i prossimi film che usciranno ci porteranno aria fresca. Il problema di questi reboot, remake, sequel potrebbe essere soltanto la voglia di certezza e di brand di successo anche se in molti casi non è sempre così. Guardiamo Joker, quello è stato un film di grandissimo successo con Joaquin Phoenix e avremo a ottobre il nuovo Joker Foliad anche lì. Spero in Todd Phillips che aveva dichiarato sin dall'inizio che avrebbe fatto il secondo film sul Joker soltanto se aveva una grandissima idea. Sembra che questa idea ci sia e a questo punto io non vedo l'ora di vedere Joker Foliad. Ragazzi io non so cosa accadrà e cosa sta accadendo al mondo del cinema. spero vivamente che si ricominci a creare nuove storie, nuovi film originali e che questo trend del momento man mano finisca. Come sta scemando il trend dei cinecomics, infatti quest'anno avremo soltanto un'uscita, quella di Deadpool e Wolverine che per quanto riguarda i supereroi, spero cominci a scemare questo trend di film, remake, reboot e chi più ne ha più ne metta perché molto probabilmente me ne sono dimenticati alcuni, per esempio Twister mi è venuto in mente e non lo so ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa mania che sta prendendo mano a Hollywood e non solo e se mi sono dimenticato qualche sequel reboot, che magari voi non vedete l'ora di guardare, fatemelo sapere nei commenti, io vi ricordo su Ciaccazione seguite i nostri canali social Facebook, Instagram e YouTube per rimanere sempre aggiornati e per parlare di cinema e di serie tv. Io vi ringrazio da Valerio Perrone e da Ciaccazione. Ciao a tutti!